è stata posizionata davanti alla facciata della basilica di san benedetto a norcia la cosiddetta gabbia realizzata per mettere in sicurezza la struttura danneggiata dal terremoto un primo passo per il suo consolidamento la grande struttura in tubi innocenti è stata appoggiata da una gru su due piattaforme in cemento realizzate sul sagrato a ridosso della basilica sarà ora ancorata ad esse con delle fasce poi ulteriormente zavorrata nei prossimi giorni sarà montata una grande travatura sul retro della facciata in pratica quello che era lo spazio interno della chiesa che ora è crollata a sua volta collegata con la gabbia ha spiegato lucanassi responsabile del nucleo interventi speciali dei vigili del fuoco ci sarà in pratica aggiunto una unica struttura che abbraccerà la facciata sui due lati impedendo qualsiasi movimento a quel punto sarà possibile rimuovere in sicurezza i detriti e le macerie della basilica